Perché è importante esserci il 17 novembre qui al Tardini? È importante esserci perché penso che sarà uno spettacolo bellissimo, perché ci saranno dei personaggi famosi e soprattutto perché Veneto si contribuisce alla costruzione del progetto di questa fondazione di Marco Simoncelli che è a Coriano, che è un centro di urno per ragazzi disabili. È un progetto che costa tantissimo, si parla di circa 1.800.000 euro, però lo voglio fare in Italia proprio per dimostrare alla gente che ci ha supportato, che ci ha aiutato e che ci aiuterà, che voglio fargli vedere dove vanno a finire i loro soldi. Quindi questa cosa mi piace e magari quando verranno a Coriano a vedere il museo di Marco o a trovarci in fondazione, passando lì davanti potranno dire Dio bocchia bello. Come sarà questo centro? Stamattina lo ha presentato al sindaco di Parma, era un bel plico. Sì, sono soddisfatto, sono soddisfatto perché secondo me viene fuori veramente un bel progetto e soprattutto aiuteremo questi ragazzi che non saranno più sbattuti a destra e a sinistra ma la mattina arrivando come chi va a scuola trova tutto lì, palestra, piscina, laboratori. Quindi penso che sia veramente una cosa molto molto valida. Quindi spero che la gente venga a vedere questa partita e che ci dia una mano. Chi ci sarà? Nazionale Cantanti e Amici del SIC? Come li ha messi insieme? Alla Nazionale Cantanti non lo so, però gli Amici del SIC ci pensavano a questa partita. Poi dopo abbiamo incontrato Gianluca e così in un primo colloquio ci siamo piaciuti e abbiamo deciso di fare questo evento. Valentino Rossi, immancabile, però c'è anche Cremonini? Sì, c'è anche Cremonini, c'è anche Abbiatti, Materazzi, poi ne ho degli altri ma mi hanno detto di non dirli tutti subito, ma li ho aspettare.